Presentata in conferenza stampa Cine Nostrum, la collaudata rassegna cinematografica che anche quest'anno si tiene a Piano Umberto ad Acicatena. Ogni anno approda nella città del Limone Verdello un protagonista del cinema italiano. Quest'anno, con la rassegna che inizierà il prossimo 27 giugno, sarà la volta di Ornella Muti. Anche quest'anno si accendono i riflettori di Piano Umberto ad Acicatena per quanto riguarda una delle più importanti rassegne cinematografiche siciliane del Cine Nostrum. Per la prima edizione abbiamo dentro una straordinaria attrice, De Ornella Muti, sarà qui insieme a tanti giornalisti e a tanti attori, tra cui uno su tutti ci piace citare che il giorno 3 ci sarà Giancarlo Giannini, ospite della manifestazione e quindi sicuramente una importante rassegna anche quest'anno. Francesco Sgrasso è stato nominato da me direttore artistico l'anno scorso. In quanto alla scelta, l'anno scorso abbiamo voluto provare su Piano Umberto senza nulla togliere al sito originale quando nacque la manifestazione Cine Nostrum, che sono le termine Sant'Avena Rappozzo, oggi oggetto anche di lavori da parte della sovrintendenza. Stiamo riportando per il secondo anno consecutivo, e ripeto solo con la direzione artistica di Francesco Sgrasso, Cine Nostrum a Cicatena, con un grossissimo personaggio. Dopo tantissime presenze di uomini, dello spettacolo, di registi, di attori, per il primo anno abbiamo a Cicatena una presenza femminile, che è la Ornella Muti. A lei esegueranno anche altri attori che il direttore artistico sicuramente avrà annunciato, quando non c'erano il corso di questa conferenza stampa. Penso che anche quest'anno questa manifestazione non si è fatta mancare nulla, nonostante le difficoltà, nonostante la Regione non abbia mandato nemmeno un centesimo, nonostante la provincia, che ormai non c'è più, non ha dato nessun contributo, con una piccola parte del bilancio comunale, 16 mila euro circa, così tanto quanto abbiamo speso l'anno scorso, ma con la compartecipazione di tantissimi sponsor che quest'anno hanno fatto Aruba per poter partecipare a questa manifestazione, con il loro contributo così spontaneo, ci hanno permesso di fare questa settimana di Cinenostomo.